... Occhio ai giornali, mercoledì 18 agosto, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV sul canale 17 del digitale terrestre visibile in tutta la regione Marche. C'è la rassegna stampa, c'è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che comincia con il santo. Oggi è Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino e dobbiamo dire che si adoperò molto nell'assistenza ai poveri Sant'Elena. Poi andò, pensate, in un pellegrinaggio a Gerusalemme, andò alla ricerca dei luoghi della natività, della passione, della risurrezione di Cristo e onorò il presepe e la croce del Signore costruendo venerande basiliche. Il sole è sorto alle 6.15 e tramonterà alle 20.08. Adesso andiamo a vedere il tempo. Dal sito della protezione civile delle Marche per oggi cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve diminuzione, in particolare quelle della notte. Domani giovedì 19 ancora cielo sereno su tutta la regione Marche, temperature senza variazione di rilievo. Venerdì 20 ancora cielo sereno poco nuvoloso, temperature in lieve aumento. Tempo buono e stabile anche per il resto della settimana, quindi per il fine settimana. Adesso andiamo a vedere subito, buongiorno a Giovanni, il nostro meteo bagnino, che sole splendido stasera che hai alle spalle. Questo indica, guarda che palla di fuoco, è meraviglioso questo sole oggi, è incredibile, guarda che bello. Allora, buongiorno intanto Giovanni. Giovanni, avete avuto a che fare, mi pare, con una mareggiata ieri che vi ha un po' scombusolato le cose, ma comunque ci sta. Sì, ieri abbiamo avuto veramente a che fare con una bella mareggiata che ci ha veramente provocato delle problematiche. In questi casi come si risolvono? E diciamo che si risolvono alla mattina, alla mattina presto, si viene giù una o due ore prima e si cerca per quanto possibile di rendere praticabile la spiaggia. Ecco, guardiamola la spiaggia Giovanni, faccela vedere un attimino, alzati un attimo. Ecco, vedete? Ecco, questo è il lavoro che fanno i bagnini che sono stati interessati dalla mareggiata di ieri. Qui c'è la sabbia e chiaramente diventa complicato, un po' come dove ci sono i sassi. Ma immagino che bisogna ripulirla tutta, insomma, ecco, c'è del lavorone, insomma, un bel lavoro. Sì, c'è un bel lavoro dove poi le scogliere sono meno efficienti, il lavoro è maggiore, perché l'acqua penetra più nelle file, creando disagio un po' ai turisti e agli avventori della spiaggia. Quindi immagino avete dovuto spostare anche tutti i lettini, avete lasciato solo gli ombrelloni. Sì, abbiamo, per fortuna, gli abbiamo potuti lasciare gli ombrelloni, perché con il marezzato è ancora più importante, li dobbiamo togliere e rimettere alla mattina. Ah, quindi addirittura togliete gli ombrelloni in certe situazioni? Eh, in situazioni molto critiche, ieri non era una di queste, però il mare è arrivato quasi alla terza fila, quindi si crea un po' di problemi, nel senso che anche nella pulizia poi. Ho capito, ho capito. Allora, comunque adesso vedo che state, insomma, risistemando, siete già a buon punto. Allora, ricordiamo ai nostri telespettatori che questa è la spiaggia riservata agli animali, gli amici a quattro zampe, si chiama Animalido, si trova a Fano. Noi siamo in questo momento collegati con questa spiaggia che si trova tra Fano e Pesero quasi, ormai siamo più verso Pesero che verso, diciamo, Senigallia, tanto per dare un ordine di grandezza. Eccolo lì, un cagnolino, l'abbiamo visto in questo momento. Ecco, immagino che voi conosciate i cani per nome come i padroni, insomma, ormai. Diciamo che quasi tutti, sì, li chiamiamo per nome, li salutiamo all'arrivo come dei veri propri clienti. Ma gli date le crocchette, cosa gli date? No? Gli date anche da mangiare? Sì, chiamiamo dei premietti, passiamo delle giornate intiere con gli educatori a portargli dei premietti sotto l'ombrellone. Oppure, per esempio, a Peragosto, oltre alla cocomarata, abbiamo fatto anche delle grosse sottoline con tutti i premietti per loro. Ho capito, ho capito. Bene, dai, avremo tempo per raccontarci un po' com'è la giornata tipo di un cagnolino in spiaggia al mare Affano. Grazie Giovanni, buon lavoro anche a te e ai tuoi ospiti, visto che di lavoro oggi ce n'è in più. Allora, innanzitutto, cominciamo dai giornali. Cominciamo dal Carlino di Pesero, 1000 euro a chi riconosce il ladro. Questo è il titolo d'apertura ed è l'appello di un titolare di un bar che promette una ricompensa. Perché? Perché qualcuno, vedremo tra poco con un fermo immagine, ha rubato le mance che sono lì, spesso nei bancori, che servono le mance che uno, se vuole, può lasciare come indice anche di gradimento e quindi sono state rubate. Il colpevole è stato però ripreso dalle telecamere e quindi chi lo riconosce, questo ladro, verrà in qualche modo premiato con 1000 euro. A centropagina invece la fotonotizia per lo sport, ovvero il basket. VL, la sorpresa saremo noi, Demetrio, Paceco e Sanford lanciano la sfida, i tre giocatori di basket. Poi Montecchio che piange, Bezzicheri, l'anima del paese, aveva 83 anni. Nella morsa dell'AFA, l'allarme siccità, niente acqua nel fine settimana per gli agricoltori, poi i truffatori che fingono la telefonata con il sindaco, ma un'anziana ha, come si dice, mangiato la foglia e li ha fatti fuggire. Qua sotto siamo pronti ad accogliere gli afghani. Fano si mobilita, diocesi, caritas e mondo dell'associazionismo in aiuto dei profughi in fuga dai talebani. Allora, andiamo a vedere adesso invece il Carlino di Ancona. La prima pagina, tenta di uccidere un imprenditore, follia a Marina Dorica e poi a Posatore, arrestato un algerino. Lo vedete in questa immagine, mentre viene portato via dagli agenti della polizia, dopo tra l'altro inseguimenti e quant'altro. Prigionieri degli incendi dolosi, dal Conero alla Val Musone fino a Senigallia, tutti provocati dall'uomo. Il comandante dice siamo a rischio. Il Corriere Adriatico invece, l'edizione di Pesaro, screening il pool a quota 20.000. Dalle scuole del Green Pass, numeri record dei tamponi, dalla collaborazione tra comune e volontari. Anche quote basse, ancora quote basse, numeri bassi per i vaccini ai giovanissimi. E nelle presenze il Codma di Fano supera invece quello di Pesaro. Il Ristò a centropagina, anche il Carlino, la VL sarà una sorpresa. Presentati Demetrio Paceco e Sanford. Poi le notizie in breve. contro i vandali chiudere l'accesso in spiaggia di notte, questo da Pesaro. Mentre a Gabice, vedremo un fermo immagine, tra poco entra in chiesa addirittura con lo scooter un giovane diciottenne finito nei guai. Emergenza idrica, Ato convoca tutti i sindaci, l'assemblea per decidere sul progetto dell'invaso. Allora andiamo sulla pagina di Ancona del Carlino per vedere soltanto un piccolo pezzo di questa impresa che ha fatto quest'Algerino che poi è finito in manette. Siamo nella zona di Ancona, come abbiamo detto. È successo poco prima delle 11.30 di ieri mattina e tutta questa cosa si è conclusa con l'irruzione della polizia all'interno di un appartamento al primo piano apposatore, siamo ad Ancona appunto, dove questo fuggitivo si era nascosto. Chi è il fuggitivo? Il fuggitivo è un 24enne algerino che ha numerosissimi alias, nomi di fantasia e molti precedenti per resistenza, furti e rapine a Milano e anche ad Albenga in Liguria con accuse che per lui in questo caso sono di tentato omicidio, lesione e resistenza. Allora non vi racconto tutta la storia che ha scritto Alberto Bignami questa battita sul resto del Carlino edizione di Ancona, però soltanto per il primo episodio che è forse quello più inquietante che poi ha fatto scattare la caccia all'uomo. Tutto è iniziato quando il giovane, questo appunto 24enne algerino, è entrato nel porticciolo di Marina Dorica, prendendo la direzione della Lega Navale, dove ha incontrato un imprenditore di 56 anni della provincia di Perugia che stava sistemando la batteria del suo gommone. A un certo punto questo 24enne gli si avvicina e gli fa una domanda, gli dice se era credente oppure no, cioè se credeva in Dio oppure no. Lui risponde sì, di che religione sei? Lui dice sono cristiano. A quel punto questo 24enne gli si piomba addosso, gli ficca la testa sotto l'acqua e cerca di annegarlo, cerca di affogarlo. L'imprenditore si è lasciato cadere in acqua e quindi si è in qualche modo liberato. Due uomini della Guardia di Finanza che erano lì vicino al porticciolo hanno iniziato la caccia, nel frattempo l'algerino si è buttato in acqua e lì c'è tutto il racconto che non vi dico perché chiaramente lo troverete sul giornale di questa mattina. Comunque un sacco di situazioni, quasi da film, che si concludono con l'arresto in un appartamento perché poi è fuggito da tutte le parti, l'hanno beccato dopo diverse ore ed è stato arrestato. Allora invece la pagina, sempre dal carriero di Ancona, da Senigallia, queste sono le immagini che vi abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale ieri sera, occhio alla notizia, fiamme dolose, l'incendio che è divampato l'altra sera e che ha dato pensieri, soprattutto agli abitanti di alcune vie vicino alla complanare, è il caos, è stato il caos, i senigallesi raccontano l'incubo, vedevamo lingue di fuoco alte, almeno quattro i punti di innesco, uno con certezza dalla complanare. Un tabaccaio dice era un muro di fumo e il rogo si allargava sempre di più. Dunque la novità rispetto a quello che vi abbiamo raccontato ieri sera è che ci sono quattro punti di innesco, cioè qualcuno ha incendiato, si è messo giù d'impegno e ha innescato appunto le fiamme che poi hanno creato tutto quello che abbiamo e vi abbiamo fatto vedere anche grazie alle immagini dei telefonini che sono arrivate e che abbiamo raccolto anche sul posto. Dall'altra parte lasciamo l'elemento del fuoco, parliamo di un altro elemento, l'acqua, che purtroppo manca ed è un problema, il problema della siccità. Adesso arrivano anche i divieti, divieti perché ovviamente l'acqua quando è poca bisogna razionarla. Allora gli agricoltori si ritrovano adesso senza acqua. Un provvedimento della regione per la diga di Mercatale, stop all'uso riguo nei fine settimana, precedenza infatti l'avranno gli acquedotti, quelli che portano l'acqua nelle case. Netti del Consorzio Idrico dice come al solito si penalizza la categoria degli agricoltori. Intanto le autobotti sono in giro in mezza provincia di Peso Urbino, l'Ato rilancia il maxinvaso, un centinaio di viaggi giornalieri per garantire acqua potabile in 20 comuni dell'entroterra. Intanto si torna alla carica per l'operazione cosiddetta Candigliano, un summit, un incontro a settembre con i sindaci. Questo è quello che troverete nelle pagine del Carlino. Il Corriere invece, fondi e progetti, sindaci a raccolta sul nuovo invaso. A settembre l'Ato in assemblea per valutare lo studio di fattibilità va superata la grande sete di cui sta soffrendo il pesarese. E ci sono al vaglio alcune ipotesi. Intanto la fotografia che pubblica il Corriere questa mattina è riferita al Pozzo del Burano che vi abbiamo fatto conoscere anche attraverso le nostre immagini. Bisogna adesso capire con questo studio di fattibilità come realizzare questo invaso per raccogliere l'acqua. Perché oggi credo che sia più urgente che mai pensare a delle soluzioni, piccole o grandi, piccoli invasi, grande invaso. Insomma comunque l'unica cosa che bisogna fare è evitare che l'acqua finisca via al mare senza essere trattenuta perché a questo punto è fondamentale trattenerla il più possibile. Allora Dio a Bezzicri invece questa è la pagina del Carlino di Pian del Bruscolo sulle pagine interne da Vallefoglia è considerata l'anima di Montecchio. Un uomo entusiasta, generoso, pieno di idee, di spirito, d'iniziativa, scrive il giornale che ha saputo condensare in 83 anni quello che un altro farebbe forse in mille anni. Un uomo generoso e buono, il funerale verrà celebrato oggi alle ore 16 a Montecchio, ovviamente come scrive il giornale Franco Bezzicri che ieri è morto dopo aver lottato per mesi contro la malattia. Poi sul ponte di via Psella niente da fare, dice l'assessore Aguzzi, risponde l'assessore alla richiesta di allargarlo fatta dai sindaci, dice Aguzzi la regione non ha competenze. Mentre la pagina di Vallefoglia del Corriere Adriatico anche qui apre a mezza pagina con la morte di Franco Bezziccheri, se ne va un'altra anima storica, titolare della Serenissima, Presidente dei Cantori, ha raccontato il suo paese in un libro, oggi come abbiamo visto è detto l'addio. Poi tesserini da caccia pronti, tesserini di caccia pronti per essere ritirati all'ufficio servizi sociali di Vallefoglia lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 fino al 31 di agosto. Da Fano invece pronti ad accogliere i profughi afghani, questa è l'apertura della pagina del Carlino, dopo il grande esodo che è in corso, di Ocesi Caritas Emergency di Fano in campo per offrire il proprio sostegno alle popolazioni in fuga dai talebani. Don Messina dice lunedì avrò un incontro con la Fondazione Migrantes e poi decideremo, insomma anche in base a quello che dirà il nazionale per esempio della Caritas, quali saranno le linee guida per accogliere, per l'accoglienza insomma. Senza mascherine in ospedale invece la pagina di Fano del Corriere Adriatico è il racconto di la denuncia più che altro di una donna che si è trovata a suo malgrado, insomma in fila all'ospedale Santa Croce per ritirare un referto e lei racconta il personale non usava protezioni, cioè erano senza mascherine. Questo fatto è avvenuto al chiuso nella sala d'aspetto. E poi dice noi utenti siamo ligi alle regole e i dipendenti invece dell'ospedale a quanto pare no. Poi il salvataggio a Fosso 6 ore, disarcionato sul windsurf, Bagnini corrono in aiuto, i Bagnini li vedete in questa fotografia pubblicata sul giornale. Poi ancora la cronaca da Fano, schianto tra auto, passeggero ferito, un uomo investito in zona stazione, la polizia locale non c'era perché si trovava a Torrette ad effettuare delle rimozioni. Poi la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, turismo, si prepara la fase operativa per Ejark, l'incarico da 36 mila euro dopo marketing e comunicazione al consulente viene affidata anche l'elaborazione del programma. Lui si chiama Joseph Ejark, è uno che sa il fatto suo, fa delle consulenze anche molto importanti, si è occupato anche di studiare il fenomeno Fano, la città di Fano, di aiutarla in qualche modo a essere rilanciata nel mondo e qui adesso si va alla fase operativa. Poi dalla Romanità al Medioevo, l'altro titolo sulla pagina di Fano, la città rievoca la sua storia, appuntamento all'Anfiteatro Reistat questa sera, mentre domani il cantautore, il cantante Bugaro sarà al paese dei Balocchi. Mentre quest'altra pagina, quest'altra notizia che ho selezionato dal Corriere Adriatico di oggi riguarda la storia di una sorella, di una donna che non trova più, che sta cercando ormai da tantissimo tempo sua sorella. Andiamo sul giornale e vediamo di che cosa stiamo parlando. Allora, siamo su questa pagina qui. Allora, ha tappezzato di manifesti la città alla ricerca della sorella scomparsa. Da gennaio 2017 la giovane, oggi trentenne, è sparita e non si hanno più notizie. A non arrendersi è chi dane grianti. A non arrendersi alla scomparsa della sorella Irut, di cui non si hanno più notizie da quattro anni e mezzo, esattamente da gennaio 2017. Tanto tempo è trascorso senza sapere più nulla della sorella, che oggi ha trent'anni, nonostante le denunce, gli appelli anche a trasmissioni televisive, come per esempio chi l'ha visto. Irut grianti, oggi capelli neri, scusate, non oggi, all'epoca, occhi e capelli neri, alta 1,63, è scomparsa da Pesaro nel cuore dell'inverno. Il 27 gennaio 2017, quel giorno indossava un piumino rosso, dei jeans chiari e delle scarpe da ginnastica. La festa del Duca invece trova spazio nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico. Pugliani è l'equilibrista, pop è colta, forma da confermare il direttore artistico e la rinascita dell'evento. Urbino è una gran macchina, basta saperla guidare, dice Marco Pugliani. Poi da Fossombrone invece, parliamo di politica, con le amministrative ormai all'orizzonte, amo Fossombrone, sostiene Massimo Berloni a sindaco, Mezzanotti dice prende corpo la lista civica grazie alla disponibilità dei moderati, dunque sempre più persone convergono verso questo nome, verso il nome di Massimo Berloni, ex Don Dapp, quindi un imprenditore di successo. Poi dalla Val Cesano, picco di caldo a Mondolfo, sono stati segnati addirittura 39,7 gradi centigradi, mai successo, il dato più alto dal 1983, nel 2010 si arrivò a 37, ma sotto, sempre da Mondolfo, 5.000 euro per le famiglie in difficoltà, la vedete la consegna simbolica dell'assegno del sindaco Nicola Barbieri, consegna della fondazione al sindaco che li utilizzerà per la staffetta solidale. E poi guardate questa fotografia, andiamo un attimo nella pagina di Cattolica Gabice del Corriere Adriatico, qui siamo a Cattolica, questo ragazzo di 18 anni entra in chiesa con lo scooter, beccato e denunciato, prima di San Pio aveva fallito a Gabice, i carabinieri si sono presentati a casa del diciottenne, increduli i genitori, la posizione adesso è al vaglio della procura di Pesaro. Mentre da Senigallia il ponte a settembre aprirà alle automobili, la domenica sarà sempre pedonale, invece la data indicata è quella del 6, il 6 di settembre, ma prima la Regione deve ultimare la consegna al Comune. Chiudiamo con la pagina di Sport, perché fino adesso abbiamo parlato di Fano, di Calcio, del Fano Calcio solo per le vicissitudini e per la questione dell'esclusione da ripescaggio, ma a quanto pare invece qualcun altro giustamente stava lavorando per comprare giocatori per affrontare la nuova stagione calcistica che comincia poi tra un mesetto e oggi si apprende dai quotidiani che il Fano appunto, l'Alma Juventus Fano ha messo a segno quattro colpi e l'attacco è già bello che è sistemato, i Granata molto attivi sul mercato, presi gli attaccanti Tortori, Casolla e Broso e poi il difensore Gigli che ha giocato anche in Slovenia e tutti i dettagli li troverete sui due quotidiani, qui io ho preso il resto del carlino e con l'articolo di Silvano Clappis. La rassegna finisce qui, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia che è il nostro telegiornale e al quale anche voi come sempre, come ogni giorno potete collaborare inviandoci le vostre segnalazioni al 338 49 68 250. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.